Mi preme difendere il ruolo degli ambasciatori, rappresentano il Paese in toto, quindi non sono d'accordo con quello che lei dice. Voi potete dire quello che volete, vi ho interrotto? No. Potete dire quello che volete, ma non c'è nessuna scelta punitiva. E' stato tanti altri Paesi, allora sono tutti Paesi che vogliono offendere... Ma che vuol dire? Ma non è che si interrompono le relazioni diplomati per la partecipazione a una cerimonia, non è quello. Mi pare se ci fosse stato, ripeto, se ci fosse stato un atteggiamento negativo ci sarebbe stata una protesta del Brasile. Non mi pare che il Brasile abbia mai protestato per il nostro atteggiamento. Ripeto, Lula ha apprezzato quello che ho scritto su quello, quindi mi pare veramente superflua. Poi le problemiche politiche si possono sempre fare, fanno parte della democrazia. Ci mancherebbe altro, se l'opposizione dicesse che tutto va bene ma dama la Marchesa, non farebbe l'opposizione. Quindi fate bene a criticare, ma già quello che dicevate lo sapevo prima del mio intervento. Questo fa parte delle regole... E me, fa parte delle regole giocatori. E me, che ho detto? No, non c'è da rire. E ognuno, infatti, che cosa ho detto? Stamica l'offesa, lei può dire quello che vuole, io sono libero, anch'io di dire quello che voglio, no? Ma c'è da ridicolizzare? Meno no, ma chi ho ridicolizzato? Vabbè, allora non riderò più. E definire il ministro. Sono regole Boldini, Presidente, lei ha fatto il Presidente del Parlamento, non stiamo, non scendiamo, va bene. Eppure l'onorello Porta sta sorridendo, allora è vietato sorridere. Forse lei piace un paese dove nessuno deve sorridere, piangiamo tutti, va bene. Va bene, mi stupisce che... Mamma mia, dico io. Va bene.